Basta logarsi mettendo quindi un ID e una password da parte dei tecnici, dei funzionari, dei politici, dei singoli comuni e lì una volta autorizzati ad accedere alla piattaforma si potrà beneficiare di tutti i servizi. In particolare vi è un'ampia repository di documentazione sia di disciplina legislativa sia di prassi sia in termini di best practice che sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. Ci saranno dei forum dove potranno essere poste domande e alle quali domande conseguiranno risposte di tecnici qualificati che Eupolis in collaborazione con la Università di Pavia ha in questi ultimi tempi individuato e messi appunto a disposizione della piattaforma. In tutto questo è preziosa l'attività anche di ANCI che fa da collettore di tutte le richieste che ci provengono dai comuni e quindi è in grado di prospettarci le esigenze dei singoli comuni nella maniera che più ci consente di adeguare il livello delle risposte alle esigenze reali dei comuni grandi e piccoli.